Ciao Andrea, buongiorno. Ciao Roberto, buongiorno a te. Allora, Andrea Naglio, tu sei ospite nostro perché io ho scoperto, frugando in giro nel web, ho scoperto il tuo podcast, il rugby raccontato ai ragazzi, così l'hai chiamato. Adesso volevo parlare, però volevo conoscerci un attimo in maniera tale che capiamo perché tu hai fatto questo podcast, ok? Certo, grazie. Allora, senti tu sei nato a Rovigo, ma vivi a Londra. Sì, io sono nato a Rovigo, diciamo patria del rugby se vogliamo chiamarla così. Culla del rugby, sì, vivo a Londra ormai da sette anni e mi sono trasferito per motivi lavorativi, però diciamo che ho sempre avuto la fortuna di avere il rugby nella mia vita, ecco, prima come giocatore a Rovigo come probabilmente la maggior parte dei ragazzi e poi ho continuato a seguire la squadra negli anni come cronista perché il resto del Carlino ho varie testate locali, area sport, rugby mercato, che è un blog online creato dagli agenti procuratori che tu stesso hai intervistato, Marco Martello, Emanuele Zobbio, cari amici e persone che stimo tantissimo. E poi mi sono spostato a Londra per motivi lavorativi nel mentre, però avevo cominciato a formarmi anche come educatore. Scusa una cosa, tu essendo di Rovigo hai scritto per il resto del Carlino la voce di Rovigo, sei un collega di Ival Malfatto? Sì, Ival è caro amico e lui scrive ancora per il Gazzettino, infatti adesso la stagione è cominciata quando andiamo al campo ci salutiamo sempre volentieri. Tra l'altro lui insieme a un altro paio di giornalisti ha creato una bellissima mostra a Rovigo sulla squadra di rugby che appunto copre la storia della rugby Rovigo, una mostra bellissima, gratuita, in centro quindi anche se uno fa una passeggiata può anche farci una capatina, è veramente veramente bella. L'ho incontrato Ival, l'ho intervistato perché lui è una persona estremamente competente, poi essendo di Rovigo anche lui come giornalista voglio dire ha delle informazioni molto interessanti ecco perché è proprio legato al rugby soprattutto, anche altri sport, però insomma diciamo che mi ha fatto molto piacere incontrarlo, molto competente tra parentesi. Senti, tu hai poi nel 2014, tu hai deciso di fare anche l'arbitro per vedere il rugby da un'altra prospettiva. Sì, io dopo 7-8 anni che facevo il cronista, giornalista, ho sentito la necessità di studiare un po' il gioco da un'altra prospettiva quindi ho fatto un corso arbitri organizzato a Rovigo, corso tra l'altro straordinario gestito dall'ex arbitro Borgato e dall'arbitro Buaretto, bellissimo. E dopo alcune settimane Frassinelle che è un club polesano della nostra zona, una grossa tradizione reggistica ha organizzato tramite la FIR e il Comitato Veneto il corso livello 1 di allenatore quindi ho pensato che come sviluppo sarebbe stato interessante. Ho fatto il livello 1, ho cominciato a fare qualche allenamento con i ragazzi di Frassinelle e mi si è aperto un mondo e quindi lì ho deciso di continuare a stare in campo da un'altra prospettiva cioè come educatore. E lì ci si è aperta la carriera? Sì, se vogliamo chiamarla così, diciamo che dopo io sono rimasto con loro e è stata una bellissima esperienza con Frassinelle poi per motivi di lavoro mi sono trasferito a Londra però volevo continuare un po' il rapporto con il rugby e ho trovato un club locale vicino a dove stavo io che è East London Rugby Club con loro ho fatto il volontario per tre anni ho continuato a formarmi, ho preso il livello 2 con l'RFU più vari corsi di aggiornamenti e di aggiornamenti Scusa, il secondo livello corrisponde tipo al nostro? Sì, immagino di sì, si possono allenare tutti i ragazzi dai 2-3 bambini fino ai 17 anni in tutto il Regno Unito e dopo diciamo che le cose andavano bene nel senso che tra le esperienze in campo sono entrato in contatto con i South Work Tigers che è il mio club attuale tra l'altro con il quale abbiamo cominciato un programma scolastico nel 2018 eravamo io in un gruppo di allenatori il nostro presidente aveva portato a bordo un po' di scuole secondarie che sono le nostre scuole medie e noi tutte le settimane andavamo a scuola a fare rugby poi la domenica se i ragazzi volevano ragazzi e ragazze ovviamente potevano venire al campo l'attività è ancora adesso totalmente gratuita e poi nel frattempo ho avuto l'opportunità, l'occasione e anche la fortuna di unirmi al community department degli Harley Queens con cui abbiamo fatto due anni e mezzo facevamo appunto i camps estivi, le visite ai club la domenica è stata un'esperienza molto bella molto formativa e quindi il percorso è continuo il percorso è continuo senti prima hai citato il femmini dice la domenica potevano venire sia i maschi che le femmine c'è tanta partecipazione da parte del femminile per i rugby allora secondo me dipende un po' dalle zone della città io posso parlare di londra però sicuramente negli ultimi due tre anni il rugby femminile ha avuto un'accelerata molto grossa nel regno unito finalmente la so onestamente non so bene come siamo messi in italia però l'hanno riconosciuto anche dei contratti pro o semi pro per le giocatrici il fatto di allenarsi e non avere il pensiero di prendere le ferie piuttosto che è stato un aiuto grosso e comunque vediamo che l'inghilterra a livello di nazionale ha ottenuto dei grossi risultati quindi sì è in grossa scesa in grossa crescita non solo dal punto di vista diciamo dell'attività in sé che comunque che mi ricordo io c'è sempre stata ma anche dal punto di vista dell'immagine della comunicazione ci sono molti è molto anche più discussa più chiacchierata anche le scuole sono molto più interessate ad avere anche una squadra di ragazzi ma senti una cosa come mai il tuo cioè la tua idea come mai a Londra in Inghilterra e nel Regno Unito il rugby è così sviluppato rispetto all'Italia allora io mi sono fatto un'idea basata più o meno su tre punti il primo è un aspetto culturale nel senso che in Inghilterra il rugby è il secondo o terzo sport dopo il calcio e se la gioca un po' col cricket mentre da noi insomma noi abbiamo il basket, la pallavolo, il calcio, i motori, la Formula 1, la Ferrari sono tantissimi sport in Italia molto molto popolari e il rugby in Inghilterra è giocato a scuola regolarmente quindi durante la settimana bambini e bambine hanno la possibilità di giocare a rugby se vogliono ovviamente tra altri sport però è un'attività regolare e poi c'è una grossa attività di formazione anche degli educatori e quindi allenatori o anche appassionati che si formano come educatori quindi magari anche a scuola o al club hanno più risorse ecco mettiamola così ogni settimana volendo potrei fare un corso di aggiornamento ne ho fatti tantissimi nella zona di Londra difesa, attacco, gioco al piede, contatto, mischia quindi c'è anche la possibilità per tanti allenatori ci sono tante risorse ecco e di conseguenza i giocatori ne beneficiano secondo me e beh sai oltretutto se è così anche facile cioè poter partecipare ai corsi se è così viene naturale ed è ovvio che a quel punto ci sia un grosso bacino di utenza sì sì assolutamente poi ci sono anche molti club che destinano anche un budget agli educatori perché vadano a scuola come il mio club è nato io ho cominciato con il mio club così loro hanno deciso di destinare un X di soldi agli educatori perché studenti piuttosto che gente che magari aveva il tempo al pomeriggio potesse andare a scuola, venisse rimunerato e poi è tutto comunque un sistema che gira attorno a questo tipo di struttura perché ovvio se puoi magari pagare uno studente che più che il volontario io la domenica sono volontario però se uno richiede 3-4 pomeriggi alla settimana in giro per la città, per il club insomma esiste anche questo tipo di sistema e il mio club non è un club professionistico però ha un community di partner abbastanza sviluppato certo senti tu hai lavorato, lavori adesso attualmente con Dallaglio sì è l'associazione che lui ha creato Lorenz Dallaglio attorno al 2009 quando lui ha smesso di giocare noi lavoriamo con le chiamiamo nelle scuole si chiamano scuole alternative cioè sono quelle scuole che hanno ragazzi con problemi di comportamento disabilità e noi giochiamo a rugby con loro che è un po' lo sport che ci fa creare questo rapporto e poi lì supportiamo nel passaggio dalla scuola secondaria al college quindi nella costruzione di un curriculum nella preparazione di un colloquio sì è un'attività molto intensa ma anche molto ti dà molte soddisfazioni perché dopo crei un rapporto genuino con i ragazzi sono ragazzi appunto che hanno o stanno gestendo determinate situazioni complicate nella loro vita e quindi sai anche avere qualcuno con cui far due chiacchiere confrontarsi è importante anche dal punto di vista di un adolescente senti Dallaglio che tipo è? fenomenale sì è un gigantesco è gigante è una montagna e comunque gli sono tutti molto riconoscenti per quello che sta facendo per i ragazzi ovviamente lui come giocatore insomma è indiscutibile probabilmente uno dei dei numeri otto più forti che abbiamo visto nel rugby negli ultimi 20, 25, 30 anni un uomo di sport fa il commentatore anche per diverse televisioni britanniche un compagnone se vogliamo anche quando ci sono le conviviali lui è sempre uno sempre con il sorriso sulla bocca tanti aneddoti secondo me è un bravo il campione del mondo tra parentesi il campione del mondo tra l'altro penso che fosse stato l'unico giocatore che ha giocato tutti i minuti della Coppa del Mondo del 2003 quindi una macchina da guerra credo una macchina da guerra una macchina da guerra tra parentesi lui leggevo su internet che insieme ai suoi compagni di scuola cioè parlo del 1985 era andato a Abbey Road negli studi dell'Amy a incidere un disco che poi erano le voci di sottofondo della canzone We Don't Need Another Hero di Tina Turner che poi dopo è diventata la colonna sonora di Mad Max oltre alla sfera del tuomo film eccezionale tra parentesi divertentissimo e lui so che è andato al matrimonio di un suo amico e anche lì ha cantato quindi cantante reggbista non è facile come abbinamento è una passione che sapevamo che ha curato quando era diciamo più giovane non ti posso dire che l'ho mai sentito cantare perché nelle nostre occasioni pur avendo il microfono in mano nel presentare gli eventi non si è mai cimentato è la prima volta che lo incontri e gli dici dai che cantacene qualcosa glielo chiederò di sicuro allora senti tu grazie suppongo anche alla tua professione a stare così tanto con i ragazzi, i ragazzini, i bambini e via di seguito hai deciso di creare questo podcast perché hai deciso di crearlo? un giorno ti sei alzato e hai detto facciamo un podcast più o meno no, diciamo che è stato un progetto diciamo pensato io quando inizio a lavorare o a giocare con un gruppo di ragazzi anche per rompere il ghiaccio faccio sempre qualche domanda ragazzi ditemi cosa sapete del rugby qualche regola e avevo notato che a volte le risposte erano ah sì il rugby è quello dove passi la palla in avanti no, quello è l'americano ah sì è quello dove prendi la gente per il collo no, quello è il wrestling allora ho pensato che oltre ad educare in campo come allenatore sarebbe stato interessante capire se c'era la possibilità di educare anche fuori dal campo la storia del nostro sport e quindi ho pensato a un podcast in realtà è rivolto ai ragazzi ovviamente perché sono storie brevi tre, quattro minuti però magari anche per quei genitori che si stanno avvicinando allo sport che vogliono avvicinare i loro figli allo sport sapere come è nato perché il pallone è ovale chi era William Webb Ellis chi era John Alomu e allora mi aveva noto l'idea di un podcast di una cosa abbastanza snella e semplice anche da ascoltare no, è bello a me è piaciuto moltissimo io mi sono imbattuto nel tuo podcast frugando un po' su internet perché chiaramente faccio tanta ricerca e allora avevo visto e ho detto ma andiamo a sentire sono andato a sentire sono veramente belli sti racconti anche perché sono delle pillole durano poco di conseguenza sono di ascolto molto interessante anche perché comunque gli argomenti che tu tratti sono molto molto intelligenti perché anche per un ragazzino un bambino che vuole ascoltarli è molto piacevole e giustamente anche per chi si avvicina al mondo del rugby ha delle notizie che altrimenti diventano problematiche da andare a trovarle sì, l'idea è proprio quella lì nel senso piccole pillole, curiosità, aneddoti anche sì, riguarda io ho cominciato magari dalla base dalla leggenda del gioco del rugby però per esempio una delle prossime puntate saranno i ruoli che differenza c'è tra un estremo e un pilone per esempio oppure le coppe del mondo che adesso tra un anno abbiamo il mondiale in Francia chi ha vinto la prima, cosa è successo nel 95 quando ovviamente non è solo il rugby ma abbiamo visto la storia di Nelson Mandela dopo la fine della parte piccole pillole che magari non conosciamo o non conoscevamo sono curiosi anche da scoprire insieme assolutamente sì allora come possiamo fare ad ascoltarti? allora per il momento noi siamo su tre piattaforme Spotify Anchor che è un sito gratuito Anchor.it è una piattaforma online e Google Podcast che è la piattaforma podcast di Google nei prossimi giorni penso usciremo anche su Apple Podcast ah perfetto sempre è una questione di logistica aspettare che mi diano l'ok e poi abbiamo un profilo Instagram che è appunto il rugby raccontato ai ragazzi dove io lì posto delle anticipazioni alla puntata settimanale creo delle storie e sì è un profilo molto diciamo snello e con poche immagini giusto ok questo è quello che trattiamo questa settimana ma voi questo lo sapete tre quattro colori al massimo e quindi però ecco sono su Instagram quindi se volete seguirci noi assolutamente sì adesso poi lo vediamo nel sottopancia il tuo spazio Instagram senti una cosa ogni quanto esci con una nuova puntata? una volta alla settimana tra il martedì sera e il mercoledì ok alle 21 più o meno sì tarda serata no è solo ho pensato che magari la metà della settimana potesse essere più semplice anche per insomma sappiamo tutti che il weekend abbiamo le partite siamo in campo guardiamo e magari ok a metà settimana diciamo che ancora siamo ancora lontani dall'appuntamento del weekend il momento giusto insomma no è una buona scelta certamente va bene senti allora seguite il podcast sentite le storie di Andrea perché sono veramente interessanti e noi poi dopo ci rivediamo da qualche parte sui campi assolutamente voglio venire a Londra siamo a Londra sono tutti benvenuti quindi andiamo a Twickenham a vedere una partita ha messo di trovare i biglietti vabbè se no andiamo a vedere una partita di seconda divisione o dei Saracens ah sì certo sì sì voglio dire hai avuto oltretutto tu hai girato tutti i club molto importanti tra gli Arlequins e i Saracens sì noi abbiamo avuto anche la fortuna come club di entrare in contatto con i London Irish che adesso gestiscono insieme al mio club il programma scolastico quindi ho fatto una stagione con Richmond diciamo le opportunità fortunatamente là ci sono ma perché Londra ha 3-4 club molto importanti e quindi poi è un po' come Rovigo anche lì la culla del rugby è Londra sì del calcio e di tante altre cose esatto di molte cose però sì insomma ci sono 3-4 club storici e insomma di fatto Sara senza Arlequins sono gli ultimi due che hanno vinto anche insomma sono arrivati alla fine della Premiership quindi è l'imbarazzo della scelta la domenica più o meno più o meno Andrea ti ringrazio ti ringrazio e seguite il podcast ok grazie a te Roberto ciao saluto a tutti ciao 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 ciao